nel nome del padre figlio spiritus santo amen allora care amiche e cari amici qui il nostro sentenza spero che questo video venga bene anche se il mio cellulare nocchia ascia 302 è un po storto ieri mi sono filmato con il mio relativamente nuovo cellulare in e ho caricato il video in 4k high guest resolution ci ho messo due ore di tarlo e quattro ore a caricarlo e l'uomo caricato premier mi raccomando andatelo a guardare parla circa il sussidio di disoccupazione che adesso si chiama reddito di cittadinanza nessuna novità e ho espresso il mio giudizio ma vorrei che molti di voi lo andassero a guardare per vedere cosa ne pensate mi raccomando commentate quel video per farmi sapere cosa ne pensate adesso contrariamente a quello che ho promesso che facevo cioè un ulteriore video soltanto se ricevevo commentari farò un altro video parlando di un tema religioso visto che comunque uno dei miei ultimi video è stato visto in poco più di una settimana 150 170 volte 130 volte ha ricevuto più di 20 commentari e non so addirittura 100 commentari soprattutto dai miei telespettatori e dalle mie telespettatrici che saluto vivamente dal nord america almeno consiglia mi danno le statistiche quindi evidentemente anche molti italiani fuori dall'italia mi seguono soprattutto negli stati uniti per quanto riguarda i temi religiosi non editirò e l'audio di questo video perché non mi sto filmando con il mio relativamente nuovo cellulare ma con questo noccia 302 che comprai a mia madre a fine 2013 per il natale allora il tema del giorno sarà sempre sul male perché ho ricevuto molti commentari e il titolo dell'altro video era il male e il bene nella tradizione mettono testamentale della tele tradizione degli evangeli e in questo video tratterò di nuovo metterò anche il titolo in inglese così lo guarderanno da nord america il diavolo the devil che già parlai di questo libro in un altro mio video se voi andate a vedere nel mio canale scorrendo nella rubrica libri oppure scorrendo il video vi troverete che circa un anno fa o meno di un anno 11 mesi dieci mesi fa ho parlato di questo libro allora che dicevo ma se esiste un bene assoluto esistirà un male assoluto e mi viene in mente un videogioco al quale giocai perché comprai cd allora i videogiochi venivano in cd inizio anno 2000 2000 2003 the devil inside il diavolo dentro o dentro il diavolo dipendendo dentro la dentro il male potrebbe essere una traduzione oppure dentro il diavolo oppure il diavolo dentro di uno perché l'inglese l'idioma inglese c'è questa ambiguità allora l'altra volta parlavamo del male negli evangeli soprattutto gnostici eretici apocrifi dualistici manichei catari bogomili albigesi come è possibile che dio permetta l'esistenza del male in questo mondo come è possibile che il male possa operare in questo mondo come è possibile che ci succedano cose brutte in questo mondo come è possibile che possa operare il maligno in questo mondo perché incluso per i cattolici e non è dio che fa cose cattive e il diavolo come è possibile questa discrepanza come è possibile che in un mondo dove il dio omnisciente e il dio tutto buono ogni che tutta la bontà del mondo che il dio dell'amore che permetta al male di esistere e io ho letto molto in merito ma vorrei sapere voi cosa ne pensate e quindi mi raccomando commentate questo video come avete fatto già con i miei ultimi video perché vedo che i temi religiosi contrariamente a quello che si pensa sono molto seguiti come è possibile quindi che dio ha fatto la creazione includendo il male quindi una cosa limitata difettosa negativa lui che è onnisciente onnipotente e tutta la bontà che esiste dovrebbe aver fatto un mondo perfetto invece l'ha fatto perfettibile cioè il perfetto lui che è infinito ha fatto un mondo finito perché tutto il caduceo in questo mondo non il caduceo di ermes ma calco perdono tutto è caduto in questo mondo allora come mai il dio nella sua vasta provvidenza ha introdotto il male nel mondo allora non è tutta la bontà supremamente buono perché evidentemente come dicono i manichei almeno c'è un volto scuro maligno oppure stato incapace come dicono i cultori del mazdeismo è stato incapace di evitare di generare due gemelli come figli e il maligno avrebbe creato l'universo e il benigno lo vuole convertire al bene è troppo lunga la storia del mazdeismo però secondo il mazdeismo ci sono c'è un dio buono con due figli due angeli uno cattivo uno buono in pratica l'angelo buono vuole riportare a dio tutte le creature mentre l'angelo cattivo ha creato l'universo e i corpi di materia nei quali sono caduti imprigionati i figli di dio o le creazioni di dio quindi veramente il demiurgo sarebbe alla radice della creazione dell'universo secondo gli gnostici e i dualisti tipo i manichei il dio del vecchio testamento è il creatore del mondo in effetti ma il creatore del mondo è niente di meno che lucifero l'angelo caduto o satana che è successo che lucifero si è ribellato a dio nella sua pierezza era il migliore e il più luminoso degli angeli allora dio l'avrebbe scacciato nell'inferno però sono arrivati a una tregua di sette giorni in sette noti per gli gnostici manichei gli eretici i testi apocrifi in quei sette giorni e in quelle sette noti lucifero redento temporaneamente cioè gli hanno dato un contratto a tempo limitato precario e in nero visto che era l'angelo caduto gli hanno dato un lavoro in nero ha costruito tutto il cielo e la terra perché perché per alcuni cristiani e sette cristiane dio era troppo perfetto come per sporcarsi con la materia e quindi è stato il demiurgo a creare tutto e poi una volta che ha creato adamo e e gli sono caduti dentro gli spiriti di angeli caduti allora al fine di questo tempo dio scaccia lucifero di nuovo nella verno nell'inferno però si ritrova dio con un mondo corrotto condannato quindi alla predizione e per questo scaccia adamo deva dal paradiso terrestre poi io mi chiedo ma allora anche il paradiso terrestre tanto paradisiaco non era perché se l'ha creato lucifero ma questa è una cosa a parte che magari gli gnosici neanche si sanno spiegare come molte cose del cattolicesimo non si possono spiegare se non con la fede allora dopo la scacciata di adamo ad eva che erano quindi condannati al peccato perché creati da lucifero e tentati dal serpente satana poi l'umanità si corrompe sempre di più allora viene il diluvio universale viene il diluvio universale dove si affoga tutta la creazione perché creata dal miti di urgo e a questo punto io veramente mi disoriento perché non so chi non dal mondo se dio non si può sporcare con il mondo a chi comanda di non dare il mondo veramente di nuovo a lucifero tira fuori di nuovo lucifero dall'inferno e fai non dare il mondo e poi non pago di questo siccome il mondo anche da dopo il diluvio universale e corrotto e prima fa uscire mosè dall egitto perché sceglie di fare un popolo eletto per la sua adorazione perché perché gli egiziani erano pagani idolatri e peccatori e schiavizzavano la gente e siccome che non era pago di tutto ciò perché continuavano nello stato di israele a essere peccatori evidentemente per colpa dei peccati per gli gnostici ebrei e cristiani per colpa dei peccati del popolo della greba del popolino sono stati conquistati più e più volte dai macedoni dai greci dai romani dalle siri del babilonese i definici da chiunque allora manda suo figlio primigenito a purificare i peccati di tutta l'umanità col suo sangue e la sua carne e a questo punto gli eretici bogomeli gli ambigesi gli gnostici dei primi momenti gli eretici del medioevo tutti quanti i catari i manichei i nestoriani gli anni d'egitto non gli ariani agli ardi d'egito del sacerdote ardi o d'egito concordano a differenza dell'ortodossia e delle chiese ufficiali di tutto il mondo che in realtà dio non concetti attraverso maria ma che ora era un e gregoro una manifestazione di dio nel mondo ma di tipo spettrale fantasmale oppure gesù che non era figlio di dio carnale sarebbe stato iniziato che è molto più probabile in una seta di nazareni che erano fondamentalisti religiosi e nazionalisti anti imperialisti oppure insomma avrebbe ricevuto attraverso il battesimo un'iniziazione religiosa per quello avrebbe ricevuto lo spirito di dio e sarebbe stato in questo modo figlio di dio ma non in chiave fisica ma iniziatica spirituale perché all'inizio del sistema un certo iniziale in una certa iniziazione nella religione il cristianesimo e l'universalizzazione del cristianesimo iniziale e si adotta una postura esoterica per tutte le persone invece i vari cristianesimi include soprattutto l'ognosticismo e di tipo esoterico per i pochi cioè l'ognosticismo secondo le civilizzazioni del passato a un approccio più scientifico tutta cui la differenza ma poi sono dei religiosi come gli altri allora io di me domando tutta questa novela noi la sappiamo attraverso dei libri e come dice biglino obilingo di cui sempre mi confondo il nome cioè come prendono per sciocchi i credenti fedeli perché molte volte non vanno a leggere la bibbia che è stata corretta e ricorretta nel corso dei secoli quindi in 2000 anni circa è stata corretta tantissime volte continua a essere corretta secondo i culti cristiani che la interpretano tanto il vecchio come il nuovo testamento ma io mi dico voglio dire il dio si comunica con l'umanità soltanto attraverso dei libri è una casta di persone quella dei religiosi dei sacerdoti si incaricano di comunicare nella predicazione e nella pratica liturgica fin dall'antico testamento la volontà di dio all'uomo cioè dio non si comunica con le persone perché se tu lo cerchi non lo trovi ma i sacerdoti sanno sempre ciò che dio vuole dire o vuole che tu sappia nel momento opportuno ciò che devi fare ma come lo sanno perché dio glielo dice nei tempi passati si credeva di sì c'erano i profeti che ricevevano comunicazioni dirette nei tempi presenti invece si considera che dio abbia lasciato gli iscritti e questo circa 2000 anni anche nella tradizione ebraica e musulmana e quindi dio una volta che ha parlato ai profeti come anche a mahoma non parla più alla gente del mondo parlano i suoi libri e sui libri sono interpretati da persone tutti vai a confessare con una persona per esempio se avete commesso dei peccati provate a confessare sotto questo video e la persona ti può anche assolvere il nome di dio voi vi rendete conto un po di autocritica bisogna farla tanto da parte dei fedeli come da parte del clero e se il clero non ci pensa a fare questa autocritica ci penso io tanto loro parlano nome di dio io potrei benissimo parlare nel nome del clero cioè il dio parla a nome per conto delle scritture attraverso le scritture e clero si incarica di interpretare la volontà di dio a secondo la cultura l'epoca e luogo leggendo le scritture infatti le interpretazioni cambiano molto perché cambia la società grazie cielo che grazie al cielo che viviamo in una società laica dove ci si legge prevalentemente attraverso una cultura che agnostica soprattutto dal 1984 italia non è uno stato confessionale non lo è più eppure il premier di uno stato straniero che confina con l'italia e che si trova a roma cioè la città del vaticano che si tratta e che si trova nello stato pontificio della curia romana che c'è solo una città città del vaticano continua a ingerire nelle questioni politiche economiche etiche e morali dell'italia per esempio parlando contro l'eutanasia contro l'aborto e contro il divorzio anche il mio cane c'ha qualcosa da ridire ecco non vorrei fare un video troppo largo ma voi che ne pensate dell'ingerenza del maligno del diavolo nel mondo e poi voglio dire per combattere il diavolo le sue eresie i tessi apocrifi gli gnostici i bogomili catari che presumibilmente erano ispirati dal diavolo nelle false dottrine dottrine eretiche a post apostatiche scismatiche anche i protestanti sono stati combattuti così gli ortodossi i copti c'era bisogno di organizzare le sante inquisizioni di mandarli a rogo di torturarli giordano bruno è stato torturato per sette anni in una forma brutale e poi c'è un film fu mandato a rogo con un bavaglio di ferro che perdeva sangue quindi non poteva neanche lamentarsi fu bruciato vivo perché gli ecclesiastici non potevano ammazzare nessuno però li torturavano a morte hanno affogato persone le hanno messe in apparecchi di tortura veramente bestiali galileo galilei se dovete pentire dei suoi studi sulla terra rotonda che oggi anche i preti dicono che la terra rotonda e sono i primi a smentire i complotisti che dicono che la terra è piana e terra piatti sti sono smentiti dagli stessi religiosi nel passato quasi tucidono galileo galilei perché affermava lo stesso che copernico e molti scienziati dell'antichità dell'epoca greca romana egizia che hanno visto che la terra era rotonda allora vecchie superstizioni dell'epoca di tolomeo erano ancora vigenti nel medioevo nel rinascimento andatevi a cercare chi era tolomeo e le sue scoperte scientifiche che arrivò alla conclusione nell'antichità che la terra era rotonda e non piatta ma perché la terra la volevano piatta quelli della chiesa cattolica gli inquisitori di torche madda e di ignacio dell'oriola dei gesuiti perché seguivano le teorie di tolomeo dell'antichità e perché in questi vanno persone le torturavano a morte se il loro dio era della bontà erano eretici ma perché volevano che tutto il mondo si convertisse al cattolicissimo era la fede romana cattolica perché doveva essere universale doveva essere cattolica questo significa essere cattolici esseri universalistici non ci potevano essere altri culti cristiani loro dovranno essere gli unici nell'universo a insegnare la religione e l'unica religione dove essere quella cristiana quindi cattolici apostolici romani voleva dire che gli unici cattolici gli unici apostolici gli unici romani dovevano essere loro non ci potevano essere altri religioni cristiane nel mondo e quindi loro erano i buoni ma loro torturavano ammazzavano bruciavano incarceravano inquisivano voglio dire i pressunti malvagi allora dove sta il male esiste male universale e forse è infettato nel medioevole la chiesa cristiana veramente io ho detto i miei più principi più grandi dubbi e riflessioni sul tema esiste un male assoluto si titolava un mio video del passato andate a vedere ma soprattutto commentatevi questo video c'è il male il maligno nella chiesa se esiste un male assoluto e esiste un maligno nella chiesa la chiesa ha operato con il male nelle crociate nel medioevo nelle sante inquisizioni sante poi perché chi le ha chiamate sante il diavolo quindi riflettiamo su questo poi a questo punto mi devo lasciare perché non so quanti questo fatto mezz'ora un'ora poi mi viene troppo pesante il video allora vi ringrazio di avermi seguito fin qui arrivederci e mi raccomando guardate il mio video sul sul reddito di cittadinanza che ho fatto ieri e questo forse lo caricherò in ore perché mi è venuto troppo largo nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen nel nome del padre del figlio dello spirito santo ma de retrus satanus va de retrus satana e seguiate a biglino dice molto biglino di bilingo biglino dice molte cose interessanti non tutte io non gli credo al tema degli extraterrestri degli elohim che sarebbero extraterrestri ma il resto è molto interessante il mio cellulare scotta il nokia asha 302 segno che ho registrato molto quindi che di solito non scotta arrivederci mi raccomando grazie di seguirmi ciao commentate questo video condividetelo perché se raggiungeremo almeno alle 302 visualizzazioni farò altri video e ogni video che vi interessa commentatelo e condividetelo in modo che se raggiunge o supera le 302 visualizzazioni gli darò un seguito anche a quel tema ciao